Ecco tuo figlio. Una seconda natività. Maria ha partorito il suo primo genito, senza travaglio, nella grotta di Betlemme, ora partorisce il suo secondo genito, Giovanni, nel travaglio della croce. In questo momento Maria soffre le doglie del parto, non solo perché dà alla luce il suo secondo genito Giovanni, ma perché dà alla luce milioni di cristiani che nei secoli saranno i figli di Maria. Maria, dunque, non è solo la madre di nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, ma è anche nostra madre, e questo non è un appellativo conferito per cortesia, né per discendenza legale, o in via metaforica, ma un diritto acquisito a prezzo del dolore sofferto ai piedi della croce. O Maria! Come Gesù è nato da te nella carne, nella prima natività, anche noi, nella seconda natività, nasciamo da te nello spirito. Così, dunque, tu ci hai generato spiritualmente per essere figli di Dio, nostro Padre, e fratelli di Gesù. T Father Cari So Ife E So Ife So